Siamo insieme, stiamo insieme. Vieni sulla sinistra, io prendo la batteria. Sì, sì, venga. Ok, copriamo questo lato qua. Viene qualcuno? No, non viene nessuno. Ok, ho messo la trappola così. Sta, sta a semi, sta a semi, mi apre lo scorcio. Dai, fammi dare un colpo. Ok, ho bloccato tutto. Dai, ho preparato a bruciarci. Dai dietro, dai dietro, dai dietro, vieni, girati, girati. Mi faccio un giro, oh cazzo. No! 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 So! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.